Miei cari salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente Spazio. Quest'oggi vi parlo della terza stagione di The Bear che è uscita il 14 agosto su Disney Plus per un totale di 10 episodi. Una terza stagione sicuramente molto attesa visto il grande successo delle prime due, per cui sicuramente un po' di cose da dire ce ne sono, ma vorrei anche essere molto veloce, breve, sintetico in questa recensione. Prima di parlare però di The Bear in maniera un po' più approfondita, ragazzi, vi ricordo le solite cose, ovvero iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto lasciate un like, un commento, attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porto qui su The Zion Theory, qui sotto poi in descrizione trovate anche i link se volete venirmi a trovare sui miei profili social. Non dovrebbero esserci grossi spoiler riguardo questa terza stagione, ma il mio consiglio è sempre quello, ragazzi, ovvero vedete prima la serie e poi tornate qui in questo stesso punto per proseguire la visione, così che magari evitate anche qualche piccola rivelazione sulla trama. Allora, ragazzi, The Bear, la terza stagione, è una stagione sicuramente meno entusiasmante, meno maestosa e meno brillante, ecco, delle prime due. Una stagione che sembra un po' smorzare quella scintilla di entusiasmo, di meraviglia, che comunque era presente nelle prime due stagioni. Badate bene, stiamo sempre parlando di una grandissima serie, di ottima fattura a livello registico, proprio nell'impostazione, registica come stile, come fotografia, come anche virtuosismi registici, ma soprattutto come bravura, in termini di bravura dei protagonisti, degli attori e della profondità dei personaggi, parliamo comunque sempre di una produzione di alto spessore e ce ne fossero comunque di serie di questo livello, quindi non possiamo dire al netto che magari questa terza possa essere inferiore alle prime due, non possiamo certo dire che questa, comunque quest'ultima stagione sia da cestinare, questo è assolutamente sbagliato. Però ecco, si avverte magari un pochettino di distanchezza, si avverte una stagione un po' più distallo, un po' più nel mezzo, ecco, più stagnante da un certo punto di vista, ma che presenta comunque sempre dei guizzi estremamente importanti, dei guizzi comunque che ti lasciano sempre a bocca aperta, specie per quanto riguarda proprio un paio di episodi, dei quali magari parleremo a breve, in cui si manifesta ulteriormente la profondità della sceneggiatura e torno a ribadire la bravura degli attori, la bravura dei protagonisti. Se vi ricordate, infatti, ragazzi, comunque la prima stagione di The Bear ci sorprese tutti, non ci aspettavamo davvero una serie di così alta fattura, così pregevole sotto diversi punti di vista. Una stagione, ripeto, una serie che ha sorpreso un po' tutti e che possiamo tranquillamente definire appunto una delle serie migliori degli ultimi anni. La seconda alzò ulteriormente l'asticella perché cosa fece la seconda stagione di The Bear andò ad approfondire, a cambiare, a mutare i personaggi, insomma, presenti all'interno della serie in un percorso di maturazione e di trasformazione estremamente, insomma, coinvolgente, estremamente interessante. In questa terza, diciamo che la sensazione che ho è che, così come in tante produzioni comunque di questi anni, si arrivi un po' a quel punto in cui debba esserci una sorta di chiusura del cerchio, che il protrarre ulteriormente una produzione di così alto spessore possa essere, non possa giovare, ecco, a quest'ultimo, anzi, possa essere deleterio. Quindi la sensazione che ho avuto è che, come ho detto poco fa, si è persa magari un po' quella scintilla, quel fattore sorpresa che ci aveva entusiasmato e che ci aveva lasciato veramente di stucco nella prima e nella seconda stagione, per una terza un pochettino più normale, in cui vediamo tanti episodi quasi antologici, passatemi il termine, in cui comunque la narrazione principale non avanza più di tanto, che in cui vediamo invece magari un approfondimento di alcuni personaggi anche di corollari o minori, e questa è stata una cosa comunque molto apprezzabile, però diciamo che la narrazione generale, la storyline principale, non avanza troppo e si avverte un po' ecco, quella fase di stanca che magari, ecco, non era presente nelle prime due, proprio perché c'era un progresso più accentuato e, ripeto, il fattore sorpresa che regnava un po' e che permeava, ecco, l'intera serie. Qui invece abbiamo degli episodi che sono diretti sempre in maniera magistrale, a volte c'è da dire si eccede anche un pochettino troppo magari in alcuni esercizi di stile, ma, ripeto, insomma, sono delle piccolezze, insomma, sono veramente dei dettagli, perché per il resto la regia, la fotografia ci fa respirare, come sempre, anche questo stress, no, del mondo della cucina, lo stress del ristorante, del The Bear, comunque, di Carmi, di Sydney, di Rich, eccetera, eccetera, quindi lo stress, la tensione, con questa regia così frenetica, esperimentale, anche sotto certi punti di vista, calza a pennello, quindi, insomma, il valore assoluto a livello registrico è sempre presente, però, ecco, ripeto, abbiamo degli episodi che vanno ad approfondire determinate dinamiche personali dei personaggi, sono sempre molto affascinanti, ma la storia, ecco, non si sa dove vuole andare a parare, cioè non si vede quale possa essere magari una chiusura del cerchio ideale. Per il resto, però, che cosa possiamo dire? Che gli episodi che comunque ci vengono mostrati tornano comunque a mettere in risalto veramente la recitazione e la scrittura dei personaggi. Ci sono un paio di episodi veramente entusiasmanti, veramente eccezionali, ovvero l'episodio in cui c'è come protagonista Tina, che è interpretata, ricordiamo, da Lisa Colonzaias, in cui, appunto, vediamo e seguiamo Tina prima di approfondire al ristorante, quindi le esperienze passate, e vediamo anche l'episodio con protagoniste Natalie, Nat e sua madre, ovvero donna, interpretata da Jamie Lee Curtis. Ci sono questo paio di episodi veramente di alta fattura, che al di là, ripeto, del discorso generale su magari il livello, che è leggermente sceso e quindi rappresenta un po' questa, una serie che sembra un po' andare incalando, no, rispetto alle prime due, però ci sono ecco questi episodi, ragazzi, veramente fantastici, cioè da una parte abbiamo un episodio in cui c'è questo rapporto che si va a sviscerare fra Natalie e donna, insomma, fra madre e figlia con una regia veramente di cinematografica quasi, con questi primi piani, con un episodio che segue, secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, questo confronto fra le due, in cui le due si trovano in ospedale, perché Natalie, insomma, inizia la fase quella un po' più del travaglio, insomma, prossima al parto e c'è questo confronto veramente mirabile fra le due che si dialogano e si confidano e cercano di capire l'un l'altra i propri errori, le paure, soprattutto da Natalie nei confronti della madre, i sentimenti contrastanti che ha sempre provato Natalie nei confronti della madre, c'è proprio un'umanità, un'emotività percepibile, una concretezza delle emozioni veramente tangibile in questo episodio che, registicamente parlando, ripeto, è una perla, perché ci sono questi primi piani, questo continuo confronto, insomma, fra madre e figlia, quindi il primo piano di Natalie, il primo piano di Emily Curtis, di donna, quindi tutto si concentra in questa sala, in questa stanza, in cui Natalie sta aspettando poi quello che dovranno essere le fasi del parto. E qui si vede, ecco, la bravura, la profondità, la cura nella costruzione dei personaggi, sia a livello di sceneggiatura, quindi di scrittura, sia a livello di recitazione, quindi si combinano queste cose e ne viene fuori un episodio magistrale unito, oltretutto, a una regia altrettanto pregevole. E poi c'è l'episodio relativo a Tina, quindi si dà anche, ecco, spessore ai personaggi, ripeto, secondari, e anche qui c'è grande umanità, una sensibilità, veramente un amore nei confronti dei personaggi che emerge in maniera prepotente, con Tina che cerca disperatamente di trovare un lavoro, alla fine, insomma, capita casualmente nel ristorante di Michael, perché ai tempi, insomma, c'era Michael, giustamente, nel ristorante, interpretato da John Bertal, e vediamo questo dialogo veramente toccante, commovente fra i due, la grande umanità presente, la sensibilità, la gentilezza, l'empatia presente in questo dialogo, soprattutto, ecco, da parte di Michael nei confronti di Tina, e anche in questo caso, veramente, ripeto ragazzi, la serie dimostra i suoi aspetti, mette in mostra ai muscoli i suoi aspetti migliori, quindi ci sono, ecco, un paio di perle assolute all'interno di questa terza stagione che vanno assolutamente sottolineate. Per chiudere, insomma, ragazzi, la serie sicuramente ci mette in risalto, ci mostra quelli che sono stati sempre i suoi aspetti positivi, ovvero i personaggi ben costruiti, ben caratterizzati, ben interpretati da tutti quanti gli attori, anche da quelli, magari, secondari, come si vede in questa terza stagione, si è persa un pochettino, ecco, secondo me, quella scintilla e si va un po', si è andata un po' più incalando, quindi, ecco, vorrei che, magari, insomma, non si allungasse troppo questo brodo, ecco, non si rischiasse di rompere il giocattolo quasi perfetto che è Deberra, quindi mi auguro e spero che, insomma, non ci siano troppe stagioni di Deberra, perché quel senso di meraviglia, di stupore, di sorpresa, che si è un pochettino perso in questa terza stagione, potrebbe perdersi ulteriormente, magari, nelle stagioni successive. Quindi, ecco, il mio augurio finale qual è? È che, magari, la quarta possa essere l'ultima stagione, che non ce ne siano, magari, una quinta, una sesta, eccetera, eccetera. Insomma, ragazzi, definitivamente parlando, la serie è sicuramente sempre di buonissimo livello, di ottimo livello, recitazione, personaggi, sia quelli primari, principali, insomma, Carmen, Sidney, ho parlato nello specifico, poi, di Natalie e di Tina, insomma, tutti quanti, dai più importanti, fra virgolette, a quelli di Corollario, sono sempre caratterizzati e scritti alla perfezione, con dei dialoghi molto umani, molto emotivi. Si va, a volte, magari, ad esagerare certe situazioni, perché, comunque, quel tono di commedia c'è sempre, quel tono un po' più esagerato c'è, ma c'è anche, ecco, la concretezza dell'umanità nei dialoghi e nei rapporti. Poi, ecco, si è perso, magari, un po' lo smalto nelle prime due stagioni, per cui il mio augurio è che, insomma, magari la quarta possa essere l'ultima. Detto ciò, miei cari, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa terza stagione di The Bear, commentate qui sotto, ditemi la vostra. Io vi do appuntamento a mercoledì con un nuovo video, non mi resta, quindi, che salutarvi. Un abbraccio a tutti voi da Spazio. Grazie. 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 Grazie.